professore buongiorno buongiorno federico coppola sezione g alla de santis fatto l'esame di terza media nel 96 federico sì certo federico come stai fatti vedere sei sempre stato un bravo ragazzo prego accomodate professore il signor facelli asporto denuncia contro di lei quello se mi colpiva mi ammazzava abita terrazzo qua sotto lui ci sta rovinando la vita ci siamo in commissariato risolviamo tutto la moglie quel tizio che mi ha denunciato per tentate lesioni ha molestato mia figlia ma davide è una brava persona le brave persone non sequestrano i poliziotti questo che l'era sfuggita mia figlia ha detto che si doveva accontentare di me due settimane dopo quello uscito di casa ma credito di nuovo che mi chiesto giudice che c'è di confermi domiciliare e adesso si accolla tutta la responsabilità e trova il preghetto altrimenti mi scordo che è un giudice non succederà niente sei in arresto per violazione dei domiciliari grazie 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 grazie